Allora, oggi provo a dare una risposta a questa domanda, che cos'è l'epistemologia? Volendo seguire lo sviluppo dei termini, ossia l'etimologia della parola, soprattutto nell'accezione in uso nei linguaggi neolatini, il termine epistemologia deriva dalla composizione dei due termini greci, episteme, che significa conoscenza certa, stabile, ossia scienza, e logos, che significa teoria, discorso. Quindi, nei linguaggi neolatini epistemologia significa teoria della conoscenza scientifica. Volendo seguire lo sviluppo dei termini nei linguaggi che non derivino dal latino al greco, quindi non nei linguaggi neolatini, in questo caso epistemologia significa semplicemente teoria della conoscenza, ossia quella che noi definiamo gnosiologia. Infatti, in ambito anglosassone, epistemology sta ad indicare la gnosiologia, la dottrina o teoria generale della conoscenza, perché epistemologia è la traduzione, prima in francese, poi in inglese, di teoria della conoscenza. Ma volendo trovare un compromesso, un giusto compromesso, potremmo intendere per epistemologia sia la teoria della conoscenza, sia la teoria della conoscenza scientifica, quindi la teoria della conoscenza nelle sue diverse forme. Questo perché è molto utile. In che senso è utile? Perché considerare l'epistemologia, la teoria della conoscenza e le sue diverse forme, ci aiuta a capire che sia la conoscenza comune, ordinaria, sia la conoscenza stabile e strutturata, quella scientifica, hanno degli elementi di condivisione, hanno dei punti in comune. E, ugualmente, ci aiuta a capire anche i loro punti di divergenza, ossia perché si differenziano, quali sono le differenze tra l'una e l'altra. Inoltre, la teoria della conoscenza così allargata, così intesa, in senso ampio, l'epistemologia intesa in questo modo, è quindi la teoria della conoscenza, intesa come gnosiologia, ma è lo studio della conoscenza e delle strutture anche implicite che si attuano nel processo conoscitivo e è lo studio dei bias, degli errori ricorrenti che commettiamo quando conosciamo, è lo studio delle ragioni e delle motivazioni di questi errori ricorrenti, è lo studio delle argomentazioni legate alla conoscenza, ma è anche lo studio e la ricostruzione razionale di che cosa significa accettare una conoscenza, quindi di che cosa significa conoscere qualcosa o credere di conoscere qualcosa o soprattutto convincersi di conoscere qualcosa. Ma ricostruire razionalmente tutto questo non significa che noi conosciamo sempre in modo lucidamente razionale, ma che ricostruiamo razionalmente anche gli errori che commettiamo nel processo conoscitivo.